Torna a colpire il West Nile virus, il virus del Nilo occidentale. Un uomo è stato punto da una zanzara ed infettato nel vento ed è ricoverato in ospedale. Ma c'è allarme anche in Emilia. Poi sul finale vedremo quali sono anche le aree in campagna, anche in provincia di Serra, un po' più endemiche, perché ci attaccano le zanzare e come possiamo difenderci. Nelle regioni del nord-est e del centro questo virus è endemico ed esiste un sistema abbastanza fritto di sorveglianza regionale con azioni di contrasto, di campagne mirate alla disinfestazione. L'allarme è in tutta Italia, dicevamo, perché il virus è endemico al nord ma anche in Sicilia e in Puglia e quindi il rischio è per tutti, anche a causa del cambiamento climatico, di insetti, speciali zanzari che viaggiano con i migranti come possibili portatori e nel caso del virus del West Nile anche degli uccelli migratori. Ma cosa è questo virus su cui il Ministero della Salute emette periodicamente dati circolari? Perché è concentrato al nord ma con focolai incipienti anche al sud? E come sentiremo tra poco anche in Campania, in provincia di Salerno, a Serra di Persano. Quali sono i sintomi su noi umani? Chi è più a rischio anche fino al decesso, anche se in casi molto rari? Se andiamo in questa intervista realizzata tempo fa con uno specialista, il professor Giuseppe Iovani, ordinaria di malattie infettive del Dipartimento di Medicina Veterinale della Federico II di Napoli. Un virus che fa parte di una bella famiglia, l'altra volta abbiamo parlato di dengue, è un virus della stessa famiglia del dengue. È stata scoperta nel Nilo, perciò si chiama West Nile nel 1937. È una patologia che ha un ruolo negli animali particolare. Cioè abbiamo la solita zanzara che porta questo virione e infetta gli uccelli, che bisogna anche differenziare. Ci sono degli uccelli che amplificano la viremia, ci sono degli uccelli che sono vittime di questa. Per esempio gli amplificatori sono i corvi, i cornacchie, tutti quegli animali sono in grado di amplificare il virus. Che significa? Significa che quell'animale è in grado di eliminare una quantità di virus cento volte, mille volte superiore a quello che può essere un altro tipo di uccello. o i polli stessi, insomma. Quindi diciamo, ecco, questi sono gli amplificatori, però accidentalmente, si dice nel campo epidemiologico, si dice a cul-de-sac, cioè accidentalmente questo virus, l'infezione può colpire l'uomo o i cavalli. Quindi sono le vittime, diciamo, di questa West Nile. Ecco qui, i casi umani di malattie, questi sono alcune slide che ci ha fatto pervenire, cioè il Ministero della Salute emette... Sì, circolari ogni anno, e aggiornamento sui casi. La particolarità è che questa patologia è entrata in Europa, prima in Francia, nella palude vicino a Camargo, nella regione della Camargo, poi è passata in Toscana e poi adesso, dopo dieci anni, è stata di nuovo ritrovata nel Delta del Po e tutte le regioni dell'Emilia-Romagna. Ci sono, ecco, qui c'è il circuito, c'è la flu chart di cosa deve fare un medico nel momento in cui ha un sospetto di questa malattia, di cosa deve fare un veterinario quando ha il sospetto di questa malattia, anche il semplice, diciamo, il cittadino, se trova questi uccelli morti in numero, diciamo, superiore alla norma, soprattutto corvi, cornacchie, gazze, piche, ecco, dovrebbe allertare quello che è l'ufficio veterinario, che faranno i prelievi e manderanno al centro di referenza per poter poi fare le analisi giuste. Ecco, qui vediamo tra i casi veterinari e quelli umani sempre il centro nord, è vero, è il clou. Il centro nord perché? Perché prima accennato agli uccelli migratori, le rotte degli uccelli migratori, ce l'hanno insegnato le epidemie di influenza, entrano dal Veneto, attraversano poi l'Italia meridionale, colpendo anche la Sardegna, dopodiché vanno in Africa, quindi gli uccelli migratori, anche loro sono vittime di queste zanzare, quindi il ciclo, diciamo, della West Nile, in teoria, dovrebbe essere limitato a zanzare, uccelli, zanzare, uccelli. A un certo punto poi ci sono questi vettori che si chiamano ponte, cioè oppure cul de sac, come ho detto prima, che sono cavalli e uomo, quindi noi accidentalmente possiamo andare incontro a questa patologia. Sembra un'influenza, quindi torniamo sempre al discorso unico. Ecco, chi è interessato può andare qui a Epicentro e documentarsi sul West Nile Virus. Si digita, si fa clic, si apre la documentazione, cioè che cos'è, i sintomi sono la febbre... Dicevamo simili-influenzale, però poche persone, la maggior parte delle persone, l'80% addirittura è asintomatica. Diventa grave in pochissimi soggetti, si dice il 10%, può diventare pericolosa perché può colpire le menigie, può colpire il sistema nervoso centrale ed essere, diciamo, mortale. Comunque sempre persone, magari anziani, che portano altre patologie. Infatti i decessi che abbiamo avuto in Europa sono, su persone anziane, tra i 70 e gli 80 anni. Probabilmente ci deve essere un qualcosa già di patologico, per esempio una forma di immunodepressione, persone diabetici, insomma, queste possono essere delle condizioni che possono dare la possibilità al virus di dare la lesione cerebrale, che è quella più preoccupante, diciamo. La febbre del West Nile, del Nile. Resta in centro questo discorso sempre delle zanzare che abbiamo detto, anche se qui a differenza della zanzara tigre che più volte abbiamo citato come portatrice di 20 malattie, la famosa edes albopictus, qui la zanzara più, diciamo, incriminata è un culex che somiglia molto alla edes per certi versi, però queste sono zanzare che purtroppo vengono differenziate in endofile o esofile, cioè possono sopravvivere nei periodi infernali all'interno, per esempio, di locali, abitazioni, capannoni, eccetera. E quindi in qualche modo questa zanzara è presente, questo tipo culex, che in genere, ecco, anche in questo caso può essere divisa in ornitofila, cioè che punge solo gli uccelli oppure può pungere l'uomo e gli animali. Cosa succede in questi casi? Il virus circola in una zona, per esempio noi sospettiamo che in Italia non si è mai andato via, però ci sono poi delle condizioni che favoriscono l'amplificarsi e il replicarsi. Per esempio il caldo eccezionale. Esatto, il caldo umido, il caldo eccessivo, le piogge e quant'altro. La cosa però interessante di questo grafico è che c'è un ciclo, cioè le zanzare diciamo cominciano la loro attività a marzo, gli uccelli cominciano la loro attività a maggio-giugno, i primi casi li osserviamo negli uccelli nel periodo di luglio, dopodiché si osservano nelle nostre stagioni, nelle nostre latitudini, agosto-settembre sono i mesi più pericolosi per questa possibilità di malattia, diciamo, nell'uomo. Seguendo questo ciclo, se chiaramente poi diventa caldo umido e si prosegue su settembre e su ottobre, avremo ancora casi fino a fine inverno, in merito a questa condizione di questo virus che ha questo particolare circolo, diciamo, zanzare, cavalli, corvi e uomo, distribuendosi quindi nell'anno in questo modo. Da noi ci sono stati 18 decessi, per esempio, negli ultimi 5 anni. La cosa interessante, per esempio, non esisteva in America, per esempio. In America è scoppiato, in questo caso, West Nile, perché è stato trovato il virus in soggetti donatori. Qui, per esempio, si vedono delle immagini, quindi nelle trasfusioni ci può essere un pericolo di trasmissione, ci può essere un pericolo qui nei donatori di sangue. E' stato visto purtroppo anche in una madre che ha avuto una trasfusione e il figlio purtroppo è risultato poi infetto e il latte della mamma era infetto. Quindi, diciamo, è un virus attrezzato per poter replicare. Ecco, ma perché ancora questa lentezza di informazioni dai sistemi di sorveglianza al sud? Qual è in Campania l'area in cui più naturalmente possono adattarsi gli animali, che sono i vettori del virus? Qual è questa zanzara da cui anche noi dobbiamo guardarci? Sentiamo ancora Iovane. Tutte le ASL devono fare una inchiesta entomologica. Cioè, in effetti, vengono queste delle catture perché dobbiamo aggiungere un altro tassello. Abbiamo parlato degli uccelli, abbiamo parlato del virus, abbiamo parlato del vettore. Bisogna aggiungere le zone umide. Cioè, in effetti, la grossa sorveglianza si fa nelle zone umide. Noi, per esempio, in Campania, la nostra zona umida che viene presa come per controllo, sia per l'influenza aviarie e altro, sia per queste patologie, è la zona di Persano, dove abbiamo quindi l'oasi di Persano. Quindi lì è una condizione, sì, effettivamente non ci sono questi dati. e lì vanno messe le trappole, vanno viste le catture, vanno fatte le inchieste entomologiche, si va a valutare quanti sono le zanzare e così, in quel modo, possono essere portati ai centri di referenza per fare la diagnosi. Le zanzare che sembra un aereo transcontinentale, insomma, viaggia da un continente all'altro, forse più di un uccello, insomma, o no? Certo, perché oggi... Il cambiamento climatico. Certo, il cambiamento climatico, gli spostamenti rapidi, i soggetti viremici. Tenete presente che la Western Isle, perché è diventata adesso così importante, così attuale, ne sentiremo parlare un po' più spesso, perché ha la capacità, questo virus, attraverso queste zanzare... La zanzare è anche quella che c'è da noi, la Culex. Sì, sì, addirittura di infettare i rettili. Cioè, tenete presente che esiste una circolare dove, per esempio, non possiamo allevare coccodrilli in Italia proprio per la Western Isle, che in effetti anche il rettile, anche lo scoiattolo, anche la foca, anche... cioè, questo virus praticamente riesce ad adattarsi a una quantità di animali spaventosa, quindi il criceto. Cioè, sono tutti soggetti, diciamo, non importanti, come vi ho detto io prima, vettori ponte, però hanno comunque un ruolo nel conservare il virus. Ecco, ma perché le zanzare ci attaccano? Quali sono gli effetti delle punture sui più deboli, come gli anziani, i bambini? Come possiamo proteggerci in casa, magari utilizzando anche altri animali? Quanto è efficace l'olio di nemm? È vero che alcuni colori attraggono le zanzare, altri li respingono. Sentiamo la naturopata dottoressa Annalisa Napoli in questa intervista, tratta da Trend, il settimanale di economia e salute sostenibile, che va in onda su Telecolore dal 1990, sempre tutti i venerdì alle 14.40 e poi le domeniche alle 23.30. Dobbiamo capire per quale motivo le zanzare ci attaccano. La cosa fondamentale è che le zanzare femmine devono portare a maturazione le uova. Per fare ciò hanno bisogno di proteine. Queste proteine sono incapaci di sintetizzarle, quindi attaccano l'uomo e l'animale, perché sono contenute nel sangue, sia degli uomini sia degli animali. Una volta venute a contatto con le proteine, portano a maturazione le uova, che si schiudono in larve. Dopodiché le larve vanno a maturazione, diventano pupe e poi alla fine danno l'insetto finale, che è la zanzara. Nel mondo se ne conoscono circa 2.700 specie. In Italia riconosciamo, oltre alle zanzare che normalmente frequentano i nostri posti stagnanti, come i paludi, i sottovasi, anche la zanzara tigre, che ultimamente si è fatta spazio anche nel territorio occidentale. I problemi legati alle punture, in passato, erano anche per la trasmissione delle malattie, come la malaria. Oggi è più che altro legata al fastidio che provoca una puntura di zanzare, tra cui il classico ponfo, che dà un effetto pruriginoso e dura circa 30 minuti. Ciò che ci preoccupa di più della puntura di zanzara non è il ponfo, ma per quanto gli effetti che può provocare su bambini anziani e malati. Molte volte i bambini possono avere una reazione esagerata su questo tipo di punto e quindi può provocare sciocco anafilattico, addirittura per l'eccessivo prurito può portare infezioni di tipo cutane. Per questo dobbiamo prevenire la puntura di zanzara. Partiamo dall'ambiente esterno, quindi come abbiamo detto optano il loro crescimento in luoghi stagnanti. Quindi munirsi di disinfettanti per quanto riguarda tombini, luoghi palustri, giardini, sottovasi. Inoltre ci sono anche la possibilità di utilizzare dei predatori naturali. In questo caso in Italia si sta sviluppando la tecnica dell'utilizzo dei pipistrelli. Infatti sono capaci di mangiare circa 2000 zanzari a notte e vengono utilizzate nelle città, nei parchi cittadini, c'è anche chi alleva proprio pipistrelli nei propri giardini. Hanno bisogno di una semplice voliera e non hanno bisogno di una cura eccessiva. Per quanto riguarda le piscine oppure i giardini con fontane, si utilizzano i pesci rossi. Anche se sembrano dei pesciolini molto innocui, sono capaci di mangiare tutte le zanzare che crescono sul pelo dell'acqua delle proprie bocce d'acqua. Quindi risultano essere dei predatori eccezionali. Per quanto riguarda l'immissione nell'ambiente di fitoterapici, molto spazio stavendo ultimamente l'analisi dell'olio di neem. È una pianta indiana, l'olio si estrapola dalla spremitura freddo dei semi. Due ricercatori americani hanno sperimentato da 1993 questa pianta e ne hanno verificato soprattutto l'attività insetticida e insettifuga. Infatti sono in grado di agire sia sul sistema sensoriale degli insetti, provocando un vero e proprio annullamento dello stimolo dell'appetito e se viene a contatto con l'olio di neem, provoca addirittura problemi gastrointestinali. In un solo agisce anche a livello ormonale, in cui infatti riesce a bloccare la crescita e provoca un alto tasso di mortalità già in fase larvale. L'olio di neem non solo viene utilizzato nei prodotti per ambiente, ma viene utilizzato anche nei prodotti per il corpo, quindi spray, lozioni, roll-on, creme, gel, anche perché ha un grosso potere soprattutto su ceppi batterici. Dato che abbiamo parlato che i bambini tendono a grattarsi continuamente e quindi a provocarsi infezioni di poco cutanea, riuscendo ad combattere i ceppi batterici, può prevenire addirittura l'instaurarsi di infezioni cutanea. L'olio di neem è uno dei componenti, troviamo anche gli oli essenziali, come la lavanda, il geranio e la citronella, vengono utilizzati per il forte odore, in modo tale da respingere le zanzare che vengono a contatto con la pelle umana. Ricordiamo di usare sempre i prodotti di tipo ecologico e biologico, almeno un 99%, soprattutto per i bambini, che siano tossici, in modo tale che se il bambino viene a contatto con le mucose delle labbra sui prodotti, non dovrebbe avere nessun effetto di tossicità. Ultimamente l'industria tecnologica di tipo del bestiario, la maglieria e le lenzuola, hanno sviluppato dei nuovi tessuti, che si chiamano insetto repellenti, sono totalmente atossici, sono di origine biologica e resistono a numerosi lavaggi. Se anche questo non riesce a bloccare le zanzare, si ricorre all'ultima strategia, che è la strategia del colore. La strategia del colore ci mette nelle condizioni di poter oscillare tra colori che sono fortemente attrattivi fino ad arrivare a colori che non sono per nulla attrattivi. Partiamo da una scala di colore rosso, nero, blu, fino ad arrivare al giallo e al bianco, che non risultano essere di interesse delle zanzare. Grazie a tutti.